E adesso ne passiamo invece al premio Lady Fair Play 2021-2022. Si finge di rossa questo studio. Assegnato dal comitato di una personalità femminile distintasi per risultati sportivi ed esempio positivo per tutto lo sport. Esempio anche per mia figlia, perché quello che sto per raccontare è quello che vivo io al parco tutti i giorni con mia figlia. Classe 1993 è originaria di Milano e la sua passione per il calcio è sempre stata parte di lei. In particolare già a cinque anni giocava con i maschi nella scuola e poi tornava a casa e coinvolgeva anche la sorella. Insomma, tutto per seguire e coltivare la sua passione. E sì, perché ha fatto una carriera all'estero, nella Juventus e dal 2021 al Milan, oltre a essere portiere della nostra nazionale. Vabbè, della vostra. Laura Giuliani è il premio Lady Fair Play, raccoglie un'eredità bella, importante, pesante come quella di Saragama. Ma, insomma, immagino che per lei sia motivo di grande soddisfazione. Da calciatrice, prima di essere atleta, credo che sia importante essere persone. Portare i valori del club in campo per noi è una responsabilità importante anche per trasmetterli alle più piccole e a chi si affaccia al nostro movimento. Allora, il calcio femminile è diventato anche professionistico, insomma, è un gran traguardo per noi donne e anche per voi sportive. Cosa ne pensi? C'è ancora di fare di più? Il professionismo per noi è un grande traguardo, ma anche e soprattutto un punto di partenza. Un punto di partenza guardando al futuro e ricordandoci da dove siamo partite e dove vogliamo arrivare. Quindi era il sogno di quando eravamo piccole e ad oggi questo sogno è diventato realtà. Poi ci sono tante cose da fare, tante cose da migliorare. Noi dobbiamo essere pronte a far parte di tutto il cambiamento che è in atto e metterci in gioco per questo. Bene, grazie. Grazie a Laura Giuliani e a questa. Un bocca al lupo per il professionismo femminile nel calcio dalla prossima stagione. Grazie a tutti.